Tutto questo si può ottenere con la flat tax, la tassa al 20%, uguale per le famiglie e per le imprese, che ormai funziona benissimo in tutti i 38 paesi che l'hanno adottata. Ed è il solo modo per rilanciare lo sviluppo, quello che appunto la sinistra non è capace di fare.